Papà ti aveva trasmesso anche la passione per il tennis, oltre a tanti altri valori. Papà è stato un buon giocatore di tennis, era uno che le cose che faceva le faceva bene e quando io ho incominciato a giocare a tennis, a appassionarmi, a fare i tornei, insomma era orgoglioso che anche io avessi fatto questa strada e quindi anche quella era una cosa che ci legava. Tu mi avevi raccontato di un sogno la volta scorsa che ci siamo parlate. Sì, quella è stata una cosa abbastanza speciale che ho raccontato poi in famiglia e poi l'ho raccontata a te, per la prima volta il fatto che quando papà è mancato mi è venuto a salutare. Sono cose magari in cui uno non crede e finché non le vive personalmente è successa questa cosa che insomma mi porterò sempre dentro, quest'ultimo saluto del papà, che però comunque è sempre con noi. Poi noi condividiamo questa casa in campagna che era la casa che papà amava di più, il Moro, e io penso che tutte le volte che siamo lì c'è anche lui. Quindi è un po' come se fosse sempre con noi, tutte le cose che ha fatto. Lui era lì, faceva i lavori, gli piaceva la domenica andare lì, era il suo posto del cuore. Quindi noi quando possiamo ci ritroviamo lì a Natale, anche quest'anno abbiamo fatto il Natale lì, ovviamente con la bene che cucina. E con la mamma che tiene la casa sempre. E tutti i nipoti, i figli, per cui siamo tanti. Bello. Grazie. Grazie a tutti